Potrebbe non essere collegato ad una challenge su TikTok il caso del 14enne che si è ferito gravemente in un incidente domestico. Il ragazzo si è ustionato nel 50% del corpo. A confermarcelo è il questore di Arezzo che prende servizio proprio in queste ore alla questura. Tra l'altro è una donna, prima volta per Arezzo. E proprio il disagio giovanile, la violenza di genere ci ha detto saranno i due fronti su cui si impegnerà maggiormente, ovviamente non solo questi. Novità non ce ne sono sull'ultimo caso, anzi gli ultimi elementi sono confortanti nel senso che non emergono elementi che ci fanno affermare un collegamento tra le sfide TikTok e incidenti domestici. Questo però non significa che dobbiamo abbassare la guardia. E anche sul fronte dello spaccio di stupefacenti Arezzo non è sicuramente un territorio esente. Grande impegno anche per l'emersione dei casi di violenza di genere. Lo spacciatore arriva, spaccia, subito va via. Insomma abbiamo proprio un tipo di organizzazione da parte degli spacciatori e dei malavitosi che è difficile da contrastare ma vi assicuro che ci metteremo tutto l'impegno. Beh la violenza di genere c'è, la violenza di genere dobbiamo soltanto farla emergere perché c'è molta diffidenza da parte delle donne a denunciare. E quindi voglio, pretendo, una polizia accogliente e che immogli le donne a denunciare. Grazie. Grazie.